Facciamo un invito agli studenti, ai giovani. Perché venire a visitare questa mostra? Perché rileggere Primo Levi? Perché capire il suo percorso di chimico? Perché studiare quest'uomo? Primo Levi è un grande scrittore, un grande scrittore che è stato capace di raccontare cose difficilmente raccontabili. Raccontare Auschwitz non era e non è facile e lui ha saputo inventare un linguaggio per raccontare quella sua esperienza. Ma a partire da quel primo contributo essenziale che oramai ha una risonanza mondiale, ha saputo inventare altri linguaggi per rappresentare altri aspetti della società contemporanea. E credo che ognuno degli sforzi che Primo Levi ha fatto nel corso della sua carriera di scrittore possa offrire al pubblico di oggi contributi molto significativi per pensare in modo autonomo e diverso molti degli aspetti della nostra vita nel mondo contemporaneo. E quindi io credo che la sua capacità di dialogare con i suoi lettori nel corso della sua vita, con i tanti con cui ha discusso, nelle scuole e in moltissime altre situazioni, questa capacità aiuti a arricchire il dibattito contemporaneo su molti temi. Io credo che questo possa essere utile in particolare alle generazioni dei più giovani, perché in realtà era essenzialmente a loro che Primo Levi voleva rivolgersi quando scriveva di Auschwitz e di tante altre cose. È interessante per esempio che lui abbia pensato a delle edizioni scolastiche dei suoi libri principali, non solo di Se questo è un uomo, ma per esempio anche del sistema periodico, che è la sua autobiografia, oppure della Chiave a Stella, che è un libro che affronta il tema del lavoro e lo affronta in una chiave molto moderna, tale da poter essere di interesse per tutti.